Non si trattava di una piccola somma, ma di un vero e proprio tesoretto di 10.000 euro. Il diciottenne indagato per l'omicidio volontario in concorso di Paolo Stasi, il 19enne di Francavila Fontana, ucciso con due colpi di pistola sull'uscio della sua abitazione lo scorso 9 novembre, aveva in un cassetto custoditi in una scatola di cartone nel suo comodino ben 10.000 euro in contanti, poi sequestrati dai carabinieri che qualche settimana fa avevano perquisito l'abitazione dove vive con i suoi familiari. Soldi, tanti soldi, sulla cui provenienza indagano ora gli investigatori dell'arma coordinati dalle procure di Brindisi e Lecce e che sono stati giustificati dal legale di fiducia Leonardo Andriulo come i regali ricevuti dal giovane per il suo diciottesimo compleanno, festeggiato pochi giorni dopo il delitto di via Occhi Bianchi. Soldi, tanti soldi, trovati insieme a due pistole, una, una innocua, Scacciacani, non ha addestrato l'interesse dei militari. Tutt'altra storia invece per la riproduzione di una Glock 17 a gas. Solo un giocattolo incapace di far male, secondo la difesa, eppure la pistola, sequestrata insieme al denaro come disposto dal PM Giuseppe De Nozza, è stata oggetto dell'udienza di resame reale svoltasi in tribunale a Brindisi lo scorso venerdì. Nelle prossime ore è attesa la decisione del giudice. Il ragazzo, amico di Paolo, è da sempre dichiaratosi estraneo e l'omicidio, ne ha chiesto la restituzione del denaro eppure dell'arma. L'omicidio di Via Occhi Bianchi ad oggi resta comunque un mistero, eppure sembra ormai evidente che gli inquirenti abbiano fiutato una pista. Se sia quella giusta o se si tratti solo di una suggestione, lo si vedrà.